del delirante episodio che ha portato alla sospensione della partita di Cagliari abbiamo già parlato in apertura di trasmissione. I siciliani fino a quel momento erano in vantaggio 1-0. Il gol è di Zampagna che trasforma al 31esimo un calcio di rigore decretato per un evidente fallo di Abbejon. Il Cagliari si è lamentato per una serie di fuorigioco che spesso hanno fermato Suaso e compagni e per diversi falli non accompagnati dal cartellino giallo come questo di Bellucci su Cammarata. La ventelle siciliane per un parapiglia nella ripresa dopo un fallo di Langella su Coppola. Poi la sospensione della gara al 38esimo. ...impesta societaria. Le cose brutte adesso dopo gli eccessi verbali e non degli addetti ai lavori ecco la violenza dei tifosi di cui certo non si avvertiva la mancanza. L'aggressione a Cagliari del portiere del Messina Manitta è una pagina fra le più inquietanti e le parole del presidente Cellino. Gli Ultras ci ricattano. Non saranno forse una novità assoluta ma sanno tanto di resa incondizionata.